Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi è mercoledì, mercoledì significa solo una cosa, questo o quello quindi mi raccomando partite subito con le domande sotto questo video in maniera tale che chi prima arriva meglio alloggia di solito quindi chi domanda per primo ha più possibilità che io poi vada a rispondere e ricordate che se vi arriva la notifica del cuoricino è perché vedrete nel prossimo video la risposta come al solito mettetevi comodi dunque e partiamo subito a risolvere un po' di vostri dubbi Prima domanda ce la fa Marco Morettini, un'icona in posizione centrale che faccia l'esterno sotto i 500k Marco l'unico a mio avviso è Kakà che almeno ha anche 5 di skill, ha quel body type fatto bene per fare il cavallone lì sull'esterno quindi andrei di Kakà Passo avanti Alessandro Marini, difensore centrale da affiancare a show con 800k anche terzino che linki Jones Beh Alessandro, tanta roba in questo caso puoi andarti a giostrare o un Bambi Saka o un James quindi molto molto easy sotto questo punto di vista, io preferisco Bambi Saka Simo di S5 Ciao Ribe, ho De Jong Valverde e Toz, però in panchina hai Renato e Bruno, tu chi useresti? E con 4 milioni mi consigli un attaccante di fianco a Cristiano Toti? Allora Simo, per quanto riguarda De Jong Valverde, io andrei a utilizzare De Jong Renato se tu riuscissi a linkarli, ibridarli in qualche modo Per quanto riguarda invece il 4 milioni di budget che tu hai per andare a affiancare un attaccante vicino Cristiano Ronaldo Toti io personalmente farei una scelta strategica, lo so che magari dici questi soldi mi prudono, lo capisco però io aspetterei di prenderci magari un Bappet Toti perché per me Cristiano Toti è un Bappet Toti e l'attaccante definitivo altrimenti arrivati a questo punto puoi anche optare per una scelta più cheap quindi aspetti, Toz di Serie A che escono questo fine settimana, gli piazzi uno di quelli e poi vai a fare l'upgrade definitivo quindi io me la giostrerei così Vincenzo Bolognini, da DC meglio Zambrotta Prime o Reese James? Allora, se li hai entrambi e devi scegliere chi mettere terzino e chi DC io ti dico vai di Zambrotta DC e di James terzino se invece ne devi scegliere uno, tra i due, io andrei su quello che paghi meno perché sono entrambi molto validi quindi c'è James che ormai costa 2 lire e Zambrotta la SBC dovresti farla quindi valuta tu però se ti dico a priori è una risposta che insomma sarebbe un po' inutile quindi valuta in base alla tua situazione Lil Pip, Mangala o Fofana Tots? Inoltre chi mi consigli per sostituire Aguar con 400k? Mi servirebbe un cc francese della Ligano e un cc da linkare con Ruben Dias Cancelo Tots a DC è valido? Allora Lil, per quanto riguarda Mangala e Fofana non c'è dubbio di andare con Fofana Per quanto riguarda invece un sostituto di Aguar Freeze per me 400k aspetta i Tots e la Ligan e potresti tranquillamente tamponare anche con un Les Melu Wotif che per me è un ottimo giocatore, molto sottovalutato Per quanto riguarda invece Cancelo Tots da DC anche lui onestamente io lo preferisco da terzino perché da DC non ha quella fisicità tipica per reggere in mezzo alla difesa Lollo Madeo, ciao cdc accanto a KDB Tots meglio Marcos Fiorente o Magalile Prime? Conta che con Magalile ne hai 1 a 8 mentre con Marcos ne avevi 3 a 8 Allora, il fatto di averne 3 a 8, 2 a 8, 1 a 8 non mi spaventa perché sapete bene o male l'intesa insomma, fino a quando tre giocatori sono fuori intesa non è un grosso problema La cosa però che mi preoccupa è il discorso che Marcos Fiorente io l'ho provato e in mezzo al campo mi è sembrato alle volte un po' troppo piantato ok? Ma che Lele è un giocatore magari alla Cantè può sopperire sotto questo punto di vista però secondo me in valore assoluto ti dico che Fiorente è meglio quindi proverei a giocare con 3 a 8 e in coppia con KDB ci metterei Marcos Francesco Giuntoli Ciao Ribe, è meglio avere con De Tozze e Zambrotta Prime Moment come DC, Romarino come punta 2 e Coutinho come COC oppure Rich James, Zambrotta, Mbappé, Oro e Royce da COC Francesco, io onestamente ti consiglierei per come la vedo io la seconda scelta e ti spiego perché Rich James è più forte di Quondé o quantomeno se la battono e Zambrotta è sempre Zambrotta Mbappé come punta è meglio di Romarino perché ha il 5 skill e Royce da COC bene o male se la batte con Coutinho quindi opterei per la seconda scelta per questo motivo Alberto Mimo in un 4-2-3-1 meglio Zidane, Mid, COC o CDC affiancato a Vidal Alberto, onestamente in questo caso io ti dico vai a utilizzare Zidane, Mid da COC e magari da mediano ci vai a affiancare a Vidal un Tozzi Serie A che esce altrimenti Zidane lo può fare tranquillamente il CDC però valuta quello che c'hai tra le mani Ivan, Raul o Del Piero Stoichkov? tutti i moments solo che Stoichkov le swap o le ha i con moments a 5 più 84-20 ok allora tra questi giocatori qua da ATT credo io onestamente ti preferisco Raul perché Del Piero da punta non mi fa impazzire Stoichkov a 3 di vede debole mentre per quanto riguarda Raul invece a 4-4 è quello che secondo me è un po' più eclettico e andrei onestamente a utilizzare lui e poi con gli swap farei invece quelle altre combo che hai scritto Elton De Carolis in difesa hai Carlos Alberto Moments Campbell Dest Futurstar terzino al posto di Carlos Paolo Tavio poi in centrocampo Magdalensi e Magliorente centrocampisti sulle fasce Fasquez e Carrasco e Punta Coutinho e Chiesa però vorrei due atti con 5 stelle di skill mi consigli al posto di Chiesa Neymar Tutta la vita si Elton nonostante c'è stato un po' di confusione penso che avrò bisogno di una bombola d'ossigeno dopo sto messaggio comunque si onestamente al posto di Chiesa tranquillamente Neymar Chiesa lo puoi dirottare sull'esterno o semplicemente sostituirlo e basta Mister Crocs DC mi servono due tra Fofanate e Quonde ti dico Fofanate e Quonde per quanto riguarda invece Tiago Mount di fianco a Tonali andrei di Tiago onestamente Ciao Mariano meglio Harry Prime o Butraghegno io ti dico Butraghegno nonostante tutti e due siano un po' al limite quest'anno Kerer o Quonde onestamente da Kerer o Quonde ti dico Quonde è l'unicorno giuro che è di mia sorella Dalglish Baby o Cristiano raga purtroppo nonostante sapete che io Dalglish lo amo vi dico che è meglio Cristiano si gioca quest'anno Cristiano e altri 10 giocatori lo sapete Massimiliano Martello ciao Ribe Rashford Atal Mbappé Dalglish come li metti nel 4-4-2 nel 4-3-1-2 allora Massimiliano nel 4-4-2 mi procedi a mettere Mbappé Dalglish da punta con Rashford e Atal esterni mentre per qua no scusami Atal e Dalglish punta con Rashford e Mbappé esterni perché Atal è 5-5 mentre nel 4-3-1-2 mi fai Dalglish e Mbappé da punta con Atal C e C e Rashford me lo adatti a C dici tu perché non Atal C e C perché Rashford comunque è fisico lo puoi adattare e portare un giocatore come Atal 5-5 lontano dalla porta per me non ha senso quindi infatti sta mossa del mister ciao Notorious e Mbappé in moments e Renato nei pic della Liga trovato De Jong beh togliere tutta la vita Mbappé e fare Renato De Jong che è un centrocampo incredibile Marco dalla Libera Bella Ribe son tozzo e meglio come punta con Ronaldo oppure son esterno e cacca Ronaldo punta ti dico cacca lascia l'esterno vedi son punta ciao Nicola da affiancare a Cristiano nel 4-4-2 preferi pure Butra Dalglish o chi con intorno al milione come con intorno al milione Dalglish per me il migliore perché almeno c'è il 5 di piede debole rispetto a Butra ha anche la quarta skill ciao Marco da usare come ATT preferisci Rashford a Mbappé a Record Breaker tutta la vita andrei su un Mbappé che lo trovo più fanilizzatore nonché più agile Batteo Fama ciao Matte Coutinho Palasio puoi usare Coutinho nel 4-4-2 come falso 9 tutta la vita si e ti dico preferisco Coutinho visto che comunque c'ha stelle skill uguali a Palasio ma ha uno in più di piede debole se non erro King ci dice con una difesa a 4 Yuri e Zambrotta e Ramos Stotti e con D centrali mi consiglio di sostituire prima con D con 1 tra Varano CL e Maldini mido Yuri con Davy Stotti guarda Onesta Monte avendo con Dottozio direi leva con Yuri Bercici e poi di Davy Stotti che si gode devastante uno dei migliori terzini i sinistri se non il migliore Dalò Teo da DC che sia Duncan nel 4-3-1-2 ti dico che sì e mentre da DC ti dico vai di Teo Dalò magari usa lo terzino da affiancare a Gullit mid meglio Virau De Jong vai di De Jong in maniera tale che fai uno bello fisico e uno totale come De Jong Max invece dice ecco la mia squadra 3-4-1-2 Oblak con De Blanc e James Carlos Vidal Jones Di Bala Buendian RS del R9 beh questa è una bella squadretta onestamente viste le SBC che sono uscite potresti togliere Jones e mettere quel candy gum aspettare i tozzi Serie A per togliere Di Bala e altrimenti potresti anche andare magari a fare la SBC di Carlos Alberto Prime non è proprio questo quello ci dice Edo volevo chiederti quanto contassero le statistiche dei giocatori che però sono specificate i cpu a parte a fondo i contrasti per gli autoblock le altre vanno considerate o si applicano solo alla cpu quelle non si è mai capito in realtà fino a che punto vengano applicate più o meno alla cpu però ad esempio il tiro a giro di precisione no funziona anche quando voi lo andate a fare quindi io sono convinto che sono traits fondamentali del giocatore e che vanno a differenziare ad esempio non so un delpiero che ha il tiro di precisione rispetto magari a un altro giocatore icona che non ce l'ha quindi le reputo fondamentali come ulteriore parametro di discriminazione tra i vari giocatori che andiamo a valutare ciao marco meglio con de fofana con zanbrotta terzino oppure uno tra fofana e con de con dc zanbrotta ma guarda dipende chi è l'altro giocatore che metteresti terzino perché tu potresti fare tranquillamente fofana zanbrotta e a questo punto potresti anche poi tranquillare o con de secondo me è meglio con de fare con de zanbrotta o potresti fare con de fofana zanbrotta terzino a meno che non ci sia un degno ricambio io preferisco comunque con de zanbrotta ciao giaci meglio matta o brian non so chi sia no ciao andrea dj camavinga future oriente toz ti dico vai su camavinga perché un po' più agile palla al piede per quanto riguarda invece gabriele moreni meglio garnincio o carrasco toz messo sulla fascia destra ti dico garnincio visto che ha la quinta di skill sono quello di corezco gundogan con paolini e niente sculato dai ongo vabbè re fernando penso che ti è andata leggermente bene valerio morelli hai royce footbird i barnes suarez e pusca in attacco dipende dal modulo però se hai un 4-4-2 giocherei barnes suarez punte con pusca e royce esterni hai anche ronaldo base però ti stai trovando meglio con suarez ma ronaldo e ronaldo raga 5 di skill un body type tutto suo io lo preferisco a suarez potresti anche pensare magari di togliere royce giochi ronaldo suarez punta a barnes e pusca esterni stratox giochi con palacio di bala avanti onestamente toglierei di bala per cristiano perché palacio secondo me è più solido visto che ha la quinta di skill nonostante tu dici che ti trovi bene con paolino ribè ho cuttigno ne marra tal mbappé come li usi nel 4-4-4-2 mi fai nel 4-4-2 ne marra tal punta con cuttigno e mbappé esterni nel 4-2-3-1 mi fai a tal punta ne marcio c'è gli altri due larghi Antonio mentre tra condè tagliafico dc tutta la vita con d samuele masci chi tra sedorf mid e blank ormai tutti e due anzianotti ma dico blank domanda se è cavarambase o con d tutta la vita con d tutta la vita con d ben di marciante vale la pena togliere uno tra bruno potm e kdb per mettere de jong se si chi tra i due de jong giocherebbe a otto io onestamente farei de jong kdb ben di philip spasic un centrocampo a tre nel 4-3-1-2 con renato de jong e baskets lo consiglio a voglia se lo consiglio philip ci sta di brutto giorgio chiede una difesa con adama otto berci a set termoso a 10 e tavernier 10 con oblak in porta o adama shotomori e tavernier in classico pop io andrei con con la seconda giorgio sai mi piace di più mi sfizia meglio luca san giovanni ha sculato de jong e perciò ha rivoluzionato un po' la rosa domanda un'altra in fascia destra di ruolo è meglio kuluseski o dembele kuluseski in fascia è fortissimo luca credimi veramente un bellissimo giocatore santa bansa 7 o fegira 10 come punta tutta la vita barnes l'unzio l'oreggio invece dice hai piccato suarez potresti bridarlo con carrasco e gliorente vale la pena metterlo al posto di ronaldo neres e vidal no perché ronaldo è meglio di suarez neres è meglio di carrasco e vidal è meglio di gliorente l'unzio kerim meminage roberto carlo smid da terzino o swap o zambrotta swap a zambrotta tutta la vita molto meglio è sempre a moment a livello di zambrotta prime da dc assolutamente no zambrotta è troppo più rapido per paragonarli suarez o benzema io ti dico suarez trovi anche la review sia di suarez che di benzema joele dato che sono molto simili meglio kimmich o de jong de jong sono molto diversi de jong è molto meglio con la palla a tre piedi finalizza meglio imposta meglio più aggressivo è proprio un altro tipo di giocatore più agile gabriele dimmi 2-3 giocatori che fanno la differenza su cui fare la squadra con 3 milioni ma io credo che con 3 milioni a fare la differenza siano ancora i soliti giocatori quindi davanti varine marba per ronaldo a centrocampo ti posso dire un renato bruno in difesa ti posso dire un jones scusami un james è tuttora che ne so un quondetto giocatori di questo tipo quindi io continuerai a andare su questi con 3 milioni che è un budget comunque diciamo bassino per il momento daniele meglio eusebio o ronaldo se intendi da punta io onestamente preferisco eusebio se intendi da esterno vai di digno ciao emanuele secondo te con 300k meglio comprare cristiano e vidic o comprare solamente il digno tutta la vita cristiano e vidic anche se vidic non mi piace cristiano è più forte di torres arctic ci domanda convenio cratare bruno con the bruin totz toti oppure zidane con il mid tutta la vita bruno secondo me con the bruin totz ci può stare tranquillamente va mangi va mangi tu totz chiede leonardo 8 di intesa o douglas guarda 5-3 per 5-3 dico va mangi tu che almeno sulla fascia è un treno con quel body type riccardo cao con the totz o bender td da dc affiancata con the terzino blank baby renato buona mediana ti dico onestamente q on de mentre per quanto riguarda blank baby renato blank fa un po' di fatica lo sostituerei magari con un giocatore totz francesco chiede meglio camavinga tutta la vita per me camavinga è incredibile oggi ho risposto addirittura a tutte le domande che avete lasciato quindi proprio record anche se ovviamente fifa va un po' calando quindi magari era nomino però mi fa piacere che ho risposto a tutte quante le domande raga lasciate come al solito un commentino per il prossimo questo e quello vi ricordo in descrizione trovate tutte le info per le live giornali sulla piattaforma viola e a me raga non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto dal vostro liberoschi ciao